Dopo quattro giorni di chiusura notturna e ripresa l'attività 24 ore su 24 del pronto soccorso dell'ospedale Segni di Ozzieri, sono state le prestazioni aggiuntive con professionisti di altre aziende sanitarie, insieme ad una convenzione con la UDI Sassari e rientro in servizio del personale ASLA a consentire la riprogrammazione dell'attività notturna del servizio di medicina di accettazione e di urgenza. Non era la prima volta che il segni chiudeva gli accessi al pronto soccorso di notte, era successo anche lo scorso anno e sempre per carenza di personale. La notizia della riapertura dunque viene accolta con favore da istituzioni e sindacati che però rimarcano la necessità di una soluzione che non sia solo tampone emergenziale, la classica pezza, ma la cura definitiva al problema di un pronto soccorso che va a singhiozzo rischiando di causare il congestionamento degli altri presidi di urgenza del Nord Sardegna. Speriamo che sia l'azienda sanitaria ma soprattutto l'assessore regionale alla sanità intervenga non con un provvedimento tampone ma con un provvedimento che risolva definitivamente questa situazione. Perché comunque sappiamo benissimo che questo problema si riversano solo sugli operatori sanitari ma soprattutto sui cittadini. Appelli ma anche proposte che dagli uffici dei sindacati raggiungono le stanze istituzionali dirigenziali per evitare nuove chiusure causate dalla mancanza di organico. L'istituzione della Fast Track è l'istituzione di percorsi dedicati alle patologie minori. Tradotto in soldoni la Fast Track farebbe in modo che siano gli specialisti per esempio di cardiologia a scendere in pronto soccorso quando è necessario e a intervenire direttamente lì sull'utenza liberando quindi spesso l'unico medico presente. I percorsi invece per le patologie minori dovrebbero consentire all'infermiere che fa il triage di inviare direttamente in reparto per esempio oculistica la persona bisognosa di cure.